Dopo circa 2000 giorni di silenzio, la Commissione Edilizia, riunitasi ieri a Sant'Anna, ha dato sostanziale parere favorevole alla realizzazione della futura piazza dei mercati. I tecnici hanno giudicato il progetto aderente al piano particolareggiato del centro storico, per altezze, volumi e distanze. L'opera ha avuto un intertravagliato già dagli inizi, con una gara d'appalto discussa ed è stata osteggiata da diversi politici e cittadini, che avrebbero preferito una grande piazza con verde e parcheggi sotterranei, piuttosto che un centro commerciale in pieno centro. Ora, dopo sei anni, si apre uno spiraglio e si attende che i lavori riprendano, si pensa già alla fine dell'estate.